Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi facciamo un Get Ready With Me come promesso così facciamo il trucco delle case Tassorosso e Grifondoro, voi ora vedete già il risultato finale e pian piano scopriremo cosa ho fatto, cosa ho combinato e cosa è saltato fuori intanto rispondo a diverse domande che mi avete fatto sia qua nella tab community di Youtube e sia su Instagram e insomma se avete altre domande chiaramente me le potete fare anche giù nei commenti non c'è problema e volevo insomma fare delle chiacchierate insieme e fare un video leggero di nuovo perché in questo periodo fare dei video un po' pesanti mi agita un pochino, penso che sia comprensibile che possiate capire la prima parte ovvero quella dove faccio il make up dedicato a serpe verde e corvo nero la trovate linkata qua giù da qualche parte, insomma la metterò così insomma se siete curiosi di vedere le due parti e direi che per oggi insomma questo sarà l'unico momento dove mi vedrete insomma finita e con gli occhiali ma direi che torniamo indietro nel tempo così iniziamo il video ok come al solito ora andiamo in modalità non si vede un cazzo come vi dicevo anche l'altra volta vabbè robe varie ed eventuali partirò dagli occhi senza fare la base perché sono colori abbastanza saturati e molto pigmentati quindi è facile che facciano fallout almeno da che ricordo un pochino lo fanno quindi parto dagli occhi, faccio gli occhi e dopo farò la base queste sono le informazioni di servizio di cui non ve ne frega un cazzo faccio anche un trucco da quello che ho un po' in testa diverso rispetto a ciò che è stata la puntata precedente e vediamo cosa salta fuori ho un po' di idee le scopriremo insieme vediamo parto dalle domande di youtube intanto mi faccio un po' di base non ci voglio di mettere il primer quindi metterò solamente il correttore perché così mi aiuta a far risaltare insomma il colore che ci andrò a mettere sopra parto dalle domande di youtube giusto perché così per cambiare un pochino invece le domande di instagram sono numerose allora parto da una domanda che mi chiede se ho mai letto un libro con davvero dei bei personaggi ma una trama deludente allora prima che vi spaventiate io devo dire che un libro esattamente di questo tipo è all for the game che è un libro brutto cioè raggiuntivamente è un libro bruttissimo che mi aveva suggerito Elena o Francesca non mi ricordo chi delle due lo stava leggendo e quindi insomma da un lato volevo sperimentare perché è un libro che viene sempre raccontato e venduto come uno dove i personaggi sono scritti proprio in maniera davvero incredibile ed è vero cioè è un libro dove la psicologia del personaggio soprattutto quello principale è davvero molto riconoscibile e diciamo la psicologia del personaggio è soprattutto il principale ma non solo anche gli altri è esplorata in una maniera incredibile ed è veramente il punto forte del libro tutto il resto fa schifo cioè tutto il resto è una roba cioè non si capisce neanche la trama vengono messe in mezzo robe a caso terribile però la serie di The Foxhole Cart che inizia no All for the Game l'avevo chiamata ma non si chiama Foxhole Cart è parecchio parecchio scritta bene dal punto di vista dei personaggi non tutti perché io alcuni li confondevo anche però è sicuramente il punto più alto della serie tutto il resto raga è tragico allora poi Steve invece mi chiede potresti raccontarci qualcosa di più sui tuoi micioni età, provenienza, curiosità allora io ho due gatti che ufficialmente si chiamano Edgar e Maria Antonietta ma non ufficialmente si chiamano Pupi e Pini lo so che è grande fantasia nella denominazione allora parto dal giallo intanto scusatemi ho due gialli che sono non guardate l'interno del mio palette questo che è di Mulac che è un si chiama Pica e ok questo è il risultato io ovviamente ho preso da pulirmi due volte e poi c'è il giallo di Jeffrey della Joe Breaker adesso proviamo provo con quello di Mulac perché ce l'ho da un pochino ed è un po' che non lo uso perché è un trucco giallo che occhio faccio giallo? faccio questo parto dal giallo solo perché sinceramente è no questo è il giallo di Jeffrey ho già detto che prendevo uno invece ne ho preso l'altro ma visto che il giallo è un colore difficile da tenere bene proviamo ad andare con quello di Mulac che invece Mulac di solito è una grande certezza e infatti rispetto a quello di Jeffrey è già molto più saturo e i miei gatti si chiamano Pupi e Pini ufficialmente cioè non ufficialmente ma li chiamiamo così per economia della cosa perché è molto facile ed è più facile chiamarli in questo modo detto ciò a parte questi deliri Pupi è il gatto nero più grande che abbiamo è un ciccione è anche un gatto un po' strano nel senso che è un gatto particolare sta abbastanza sulle sue vuole un sacco bene a mio marito a Mr. Fiction e a me meno però è un gran ruffiano quindi da me viene solo quando vuole del cibo e quando vuole i massaggi Pupi invece è l'amore della mia vita Pupi è il gatto più cioè fantastico che chiunque potrebbe mai avere è un gatto super affettuoso è un gatto morboso anche per alcuni versi e niente io voglio un sacco bene a Pupi perché Pupi è veramente la gatta migliore che uno potrebbe avere è un diamond non è una gatta cioè voglio benissimo a tutte e due calcolate che Pupi l'abbiamo trovato in una colonia felina vicino al ristorante dove lavorava mia mamma io e mia sorella che era piccolissima perché Pupi ha sette anni quasi otto e ci siamo mia sorella molto a differenza di età rispetto a me era piccolina piccolina aveva sette otto anni anche lei si è infilata in questo anfratto che campagna non vi lascio immaginare e aveva sentito mia volare e ha trovato effettivamente i due cucciolini e la mamma e la mamma non si era molto aggressiva ma non si curava dei due gatti ed erano messi maluccio infatti loro infatti quando abbiamo preso Pupi non eravamo certi che sopravvivesse poi miracolo miracolo è riuscito a sopravvivere e il fratello era messo molto peggio però l'ha preso una ragazza che veramente ha fatto il miracolo e infatti anche il fratello è sopravvissuto e niente era molto molto aggressivo inizialmente perché è un gatto selvatico fondamentalmente ma veramente che non ci si riusciva ad avvicinare mordeva graffiava era terribile averlo in casa poi da quando è arrivata Pupi è cambiato dall'oggi a Dolmano è diventato molto più affettuoso e più si va avanti più diventa affettuoso questa sembra una madre molto affezionata al proprio bambino però è vero Pupi ha fatto dei cambiamenti immaginabili madonna sto parlando dei gatti come se parlassi dei figli ma più o meno per me sono i miei figli e invece Pupi ci aveva parlato di questa cucciolata una coppia di nostri amici perché la ragazza della coppia conosceva questa sua amica che ha il nonno contadino e questa cosa un po' controverso insomma tanti contadini col fatto che non sterilizzano i gatti fanno le cucciolate ma poi non se ne occupano quindi avrebbe fatto una brutta fine diciamo così Pupi e niente lei prese un altro cucciolo io invece volevo insomma salvare da morte certa questo povero gatto ed è arrivata e niente e Pupi è l'amore della mia vita è veramente il gatto migliore che chiunque potesse avere e potrebbe mai sognare di avere e quindi niente sono con noi Pupi ha 5 anni e Pupi ne ha no Pupi non ne ha 5 ne ha quasi 6 ormai e invece Pupi ok io intanto vado a sfumare leggermente i bordi anche se dopo dovrò ripassarli e intensificare invece l'altra parte perché il giallo effettivamente si perde molto però vorrei che fosse abbastanza piena quest'area vado alla prossima domanda però se no non rispondo a nulla allora quali sono i libri che hai amato o che comunque ti sono piaciuti e ritieni che abbiano avuto il migliore e il peggiore adattamento cinematografico televisivo wow questo è difficile allora tendenzialmente i film sono peggio dei libri cioè è una cosa universale tranne in pochissimi casi buon adattamento beh un adattamento buono secondo me il signore degli anelli ma a me io non sono una fan del signore degli anelli ok allora forse tra i migliori mi sento di annoverare the princess pride che è un fantasy che in realtà ha un tono ancora più ironico rispetto al film anzi molto più ironico però per me è uno di quei film con cui sono cresciuta quindi sono super affezionata a quel romanzo ma anche e soprattutto forse al film allo stesso tempo direi che è un altro adattamento che a me piace molto anche con dovuti cambiamenti che capisco nell'ordine delle cose però un film proprio che a me piace molto è Matilda e ci sono molto affezionata i peggiori vabbè ma quello è perché sarebbero stati comunque in questa classifica come peggiori sono gli Harry Potter soprattutto penso che il peggiore in assoluto sia sono indecisa tra Il prigioniero di Azkaban perché proprio mi fa arrabbiare è un film molto sminuito ma forse ancora peggio ma perché cambia proprio tutto il senso del romanzo è Il calice di fuoco altro che amo da morire è anche Charlie and the Chocolate Factory però il film con Gene Wilder lo amo e lo adoro allora altra domanda invece cosa rende un fantasy uno young adult new adult o adult oltre ovviamente gli intenti dello scrittore rispetto al target di riferimento del proprio libro magari tematiche scrittura scene forti allora innanzitutto secondo me l'intenzione dell'autore va presa in considerazione e oltre a quella dell'autore c'è anche quella della casa editrice che però spesso in realtà vende degli ya che non sono ya perché è più facile puntarli sul target invece che in realtà valutare che siano in realtà new adult o adult book personalmente le caratteristiche che secondo me più di tutte definiscono che cos'è uno ya rispetto a un adult book è la scrittura la scrittura può raccontare di ragazzi ma essere una scrittura molto adulta e adulta significa con una densità della prosa diversa con un tipo di linguaggio diverso con una scorrevolezza diversa e questo secondo me è la prima cosa dopodiché secondo me la grossa differenza tra new adult e young adult è la questione delle tematiche contenute nel libro e anche le scene più o meno forti perché includere scene grafiche intendo esplicite legate alla sessualità eccetera eccetera non è che da un lato eliminino del tutto la componente adolescente che secondo me è un adolescente anche in ambiti diversi può comunque conoscere tranquillamente e non rimanere escluso però diciamo che già la presenza di tematiche esplicite di scene esplicite allontana il target perché non tutti i ragazzi diciamo sono pronti o comunque vogliono leggere questo tipo di cose o anche da un punto di vista esterno è corretto o meno che le leggano quindi tendenzialmente direi scrittura che tra il new adult lo young adult secondo me è più di tanto non differenza ma tra un adult book e uno young adult book c'è differenza e poi non è che se uno rientra in una categoria non può leggere l'altra assolutamente cioè io ho sempre letto libri per adulti o libri new adult da adolescente non mi ha mai fermato poi dopo insomma dipende davvero da tanto dalle persone allo stesso tempo però riguardo alla scrittura eccetera secondo me alcune puntualizzazioni vanno fatte cioè che verrà un rosso mega intenso e un giallo non intenso nonostante insomma secondo me non si comporti male quello di mulac però bisogna stratificare tanto perché è proprio giallo però dai devo anche rispondere alle domande e ricordarmi ogni tanto di fare un po' di risposte allora se la gioia tristezza disgusto rabbia e paura fossero libri quali libri sarebbero e perché allora se la gioia la tristezza porca miseria che domanda difficile se la rabbia fosse un libro sarebbe un libro contenente personaggi arrabbiati e quindi secondo me il libro vabbè forse anche perché per me è il libro dove si vede moltissimo questa componente e io lo amo molto per quello è sicuramente Harry Potter e l'ordine della Fenice perché è un libro dove Harry è costantemente incazzato e ha ragion veduta se un libro fosse la tristezza non c'è dubbio che sarebbe I Miserabili perché è un libro pieno di tristezza potrei dire anche tante cose riguardo a Dickens anche però mi soffermerò su questo sulla paura dirò un grande classico ma diciamo il ciclo di Cthulhu di Lovecraft perché proprio indaga sulla paura e rievoca la paura in generale in un senso quasi antropologico io se penso alla paura penso a Lovecraft e non riesco a pensare ad altro riguarda la gioia è difficile un libro che riguarda la gioia porca miseria meravente difficile perché proprio la gioia non è la componente che io cerco di più nei libri infatti non mi viene niente sulla gioia ragazzi passo mi chiedono anche un libro su cui non avrei scommesso una lira ma che in realtà mi ha stupito tanto e per questo vi citerò in realtà un altro libro che mi è stato inviato da Penguin l'anno scorso due anni fa mi ricordo comunque si chiama Toy Makers di Robert Dinsdale diciamo che non ci avrei scommesso però sinceramente aveva degli elementi che mi intrigavano molto però boh una di quelle cose che boh e mi è piaciuto moltissimo è un libro che richiama diciamo Mr. Magorium è l'ambiente diciamo più legato al circo ma non solo però in realtà tratta di tematiche veramente molto pesanti perché comunque è inserito anche in un contesto di guerra eccetera eccetera e a me è piaciuto moltissimo altra domanda invece è se i quattro elementi fuoco acqua terra e aria fossero dei libri o dei personaggi se vuoi ok quali sarebbero allora se penso a fuoco penso a burn e quindi è facile pensare a bright we burn di Kirsten White anche perché il legame con il fuoco è sensato nel senso che la nostra lada deve bruciare tutto e noi tifiamo perché lei lo faccia se penso all'acqua mi viene subito in mente casualmente When Water Sunk Fire che è una novella all'interno di questa raccolta di novelle insomma racconti piccoli e brevi cioè in realtà sono griscia novelle e infatti sto parlando di Language of Thorns di Libertugo se penso alla terra penso banalmente a Earthsea cioè la saga di Earthsea di Ursula Le Guin se penso a aria banalmente mi viene in mente solo Queen of Air in Darkness di Cassandra Clare ma non l'ho letto perché mi rifiuto e quindi cosa diciamo con Air quindi magari Air lo teniamo sul volare il fatto di stare in aria quindi Space Opera e Lunar Chronicles così a caso invece mi chiedono una domanda un po' personale che cerco di insomma tagliare rielaborare un po' in modo da renderla un po' più universale comunque come spiegare alla propria famiglia che fa l'insegnante che non si è interessati a repercorrere più o meno la stessa strada quindi partecipare a concorsi pubblici eccetera eccetera ma le priorità sono altre magari cerchiamo altro nella nostra vita e non vogliamo andare su quello che i nostri genitori pensano sia meglio per noi e concludendo con fa così schifo fare il freelancer allora la mia risposta sul freelancing sarà sempre questo allora un buon amico vi darà un consiglio prezioso che dovete tenere a mente non aprite la partita IVA quella è il miglior consiglio questo è il miglior consiglio che chi vi potrebbe dare non lo fate cioè pensateci 50 volte mettete sul piatto tutte le vostre opzioni se è l'unica strada percorribile allora per forza se potete evitarlo evitatelo per il vostro bene ve lo dice zia Tiffany io il mio lavoro lo posso fare solo e unicamente con la partita IVA ma se potessi non averla tutta la vita tutta la vita in tutto ciò comunque devo anche truccarmi non posso solo fare madre Teresa di Calcutta che si spaventa per le vostre scelte allora finiamo sto giallo poi dopo andiamo a fare il rosso allora invece come spiegare ai propri genitori che insomma non si vuole ripercorrere la stessa strada barra non esistono solo soluzioni nella vita che sono quelle a cui loro si sono affidati a cui loro hanno pensato che magari noi vogliamo altre cose allora è una domanda molto difficile io non so non ho una famiglia che mi ha mai costretta a fare cose anche perché insomma hanno sempre rispettato ci hanno dato la libertà massima non avendo diciamo vabbè insomma e quindi a mio parere cioè faccio fatica ad immergermi in un'atmosfera dove è la famiglia che cerca di spingerti a fare cose devo dire che dovete spiegare molto bene però una cosa non sono le scelte prese da altri quelle che vi renderanno felici non è detto che i vostri genitori abbiano torto ragione in fare quello che fanno perché io capisco che lo facciano anche con le migliori intenzioni poiché queste intenzioni effettivamente siano quelle migliori per voi non è detto cioè siano magari migliori perché pensano che sia quella cioè la strada facile sicura e quella che potrebbe darvi maggior soddisfazione garanzie eccetera nel breve periodo però è vero anche che se poi non è la cosa che vi rende felice convivere con un'infelicità di qualcosa che è vero vi mette il piatto in tavola però non vi rende soddisfatti è molto dura raga ve lo dico perché è proprio verissimo questa cosa io ho lavorato in diverse aziende in cui prendevo molto di più di quello che prendo ora guadagnavo molto meglio avevo delle condizioni lavorativi eccezionali e non cioè non dirò mai non sminuirò mai queste esperienze che mi hanno insegnato anche tante cose ma io ero infelice ero profondamente infelice perché non facevo quello che mi pareva me non facevo il lavoro che sinceramente mi dà maggior soddisfazione e non mi permetteva di esplorare anche le mie capacità e questo per una come me ma perché io sono fatta così io non cerco solo la stabilità economica io cerco soprattutto la realizzazione e la soddisfazione personale perché le metto e le reputo al di sopra anche di un ottimo stipendio poi cioè vengo e non vengo sicuramente da una famiglia né da una condizione economica che mi permette di ragionare dicendo non mi cambia niente cioè a me cambia parecchio il fatto di guadagnare più o di guadagnare meno mi scombussola parecchio allo stesso tempo non è l'unica cosa che conta non è l'unica cosa però dall'altro lato immedesimati nelle loro visioni delle cose insomma nel loro modo di pensare perché comunque capisco c'è anche tanta paura nel confronto della mancata realizzazione dei figli del fatto di non trovare un lavoro cioè comunque sarà anche senza lavoro questa possibilità per un genitore chiaramente è un dispiacere poi non so la situazione nello specifico però è complesso anche da quel lato lì adesso inizio a fare intanto anche l'altro occhio dicevo capisco il punto di vista dei tuoi genitori poi dipende sempre tanto dalla situazione nel senso se i tuoi genitori ti danno una mano o no ricordati che qualsiasi sia la tua scelta ti faranno pesare tantissimo i tuoi fallimenti perché ti sentirai anche tu molto in dovere di doverli sempre sostenere e dover sempre dare il massimo e può essere effettivamente stenuante consiglio da vecchia come sono è veramente importante e più importante la tua felicità il resto non conta niente quindi magari fai dei tentativi ma al che vada fai il concorso dopo non succede nulla vado avanti e passo a instagram e ci provo perché ho tante tante domande nocturnalblaze cioè Sara che saluta tanto se ho già piani per tanti dei tuoi prossimi tattoo o per farli segui l'ispirazione del momento allora no io in realtà penso di avere dei piani abbastanza definiti per i miei tatuaggi poi alcune cose non le ho ancora definite perché penso che i tatuaggi almeno per me rappresentino sia parte dell'esperienza che un racconto personale almeno io li vivo così e quindi c'è anche ciò che mi piace altri invece sono puramente estetici perché io penso che insomma il tatuaggio non debba avere regole intanto inizio a fare l'occhio rosso così facciamo la fiera della re di collagene del tutto sto usando il rosso di Jeffrey quindi praticamente tra l'altro io dovevo tatuarmi in questo periodo ma no diciamo che i miei più grossi capricci in realtà sono finire questo braccio perché c'è sto buco enorme qua a cui voglio fare una cosa che tra l'altro voglio fare da tantissimo tempo ho già anche trovato il tatuatore che potrebbe farla ma il problema è che sto aspettando che venga a fare una guest a Bologna quindi il problema è puramente organizzativo e allo stesso tempo ho anche tanti altri piani perché vorrei ribattere la schiena nel senso che vorrei fare una cioè un mega lavoro di blast over non su tutto però su tanta parte della schiena vabbè è una cosa complessa c'è la differenza tra giallo e rosso si vede comunque e allo stesso tempo vorrei farne tanti altri cioè ho veramente tanti progetti tanti tatuatori in testa e mancano i soldi fondamentalmente e il tempo barra un po' tutto perché comunque insomma sto soffrendo parecchio tra l'altro negli ultimi tatuaggi perché più si va avanti con l'età più ci si tatua più ci si sente chiaramente non ho le possibilità né la voglia anche di farmi 200 cose che poi non riesco effettivamente a gestire anche perché raga tatuarsi è caro è costoso invece mi chiedono cosa ne penso del cast di Sadie Corvi cioè della serie tv di Shadow and Bone interpreto così intanto inizia a sfumare un pochino il rosso in modo da renderlo più simile al lato giallo uso lo stesso pennello giusto perché non ho voglia di sporcarne un altro vabbè robe a caso allora cosa ne penso del cast diciamo che i miei preferiti del cast nuovo sono vabbè Inej perché Inej è Inej e è arrivata Pipi io penso che Inej più centrata di così facevano fatica a prenderla veramente sono molto molto fan di Jasper dell'attore che fa Jasper perché soprattutto vedendo anche i suoi video a me piaceva molto già dall'inizio sono una sua fan della prima ora vedendo i video sono sempre più convinta che sia una scelta perfetta perché è proprio snodatissimo è questo ragazzo molto smilzo molto simpatico con questo sorriso enorme e non so io lo vedo perfetto per Jasper e tra l'altro balla da dio quindi per me Jasper cioè non potrebbe essere nient'altro quindi insomma di loro due ho avuto la convinzione fin da subito sono abbastanza contenta per Alina la trovo non centratissima nel senso che Alina dovrebbe rappresentare comunque un personaggio magari più di origine siberiana però sempre russa almeno non è descritta però nella mia testa è così e in realtà l'attrice non è proprio siberiana ma è in realtà o vietnamita o del Laos non mi ricordo ovviamente sarà né vietnamita né del Laos ma sarà tipo un altro paese cambogiana però a lei mi piace molto è molto molto bella secondo me e a me il fatto che Alina abbia queste caratteristiche questo tratto orientale a me è sempre piaciuto molto il Darkling cioè Ben Barnes io raga voto sì voto sì secondo me se non recita da cani perché Ben Barnes non ci ha abituato a delle performance sempre ottimali però a me Ben Barnes piace come personaggio e lo vedo anche abbastanza giusto per il Darkling chi rimane fuori sì lo so che sto tenendo fuori qualcuno apposta ah ok mi ero mi ero lasciata fuori altri personaggi ma vabbè ragazzi il ragazzo che fa Mal mi sta super super simpatico poi sono una grande fan di Mal quindi voto sì anche lì è più simpatico nella vita reale che come personaggio Mal però non lo so lo trovo abbastanza giusto cioè so che magari ci si aspettava Mal come il classico bellone lui non è il classico bellone a me per questo piace voto sì Daniel la ragazza che fa invece Nina ecco Nina la trovo troppo magra rispetto a Nina è un'accettabilmente formosa il che non significa essere Nina però allo stesso tempo insomma la trovo molto carina molto giusta ho visto questa scena tra lei e l'attore che fa invece Mattias e sono così ciccini piccini e dolci che per me sì e sarà sempre sì ecco mi sarebbe piaciuto che avessero osato di più per Nina perché Nina non è un personaggio diciamo semplicemente curvi cioè è un personaggio formoso abbondante e ne va fiera questa cosa secondo me sarebbe stata molto importante ed è il motivo per cui Nina tra le tante cose è amatissima voglio vederle in azione voglio vederle anche come risulteranno sullo schermo ecco arriviamo invece alla pillola dolente io ho grandi dubbi su Freddy Carter ma perché nella mia testa è impossibile trovare un cas allo stesso tempo piano piano sto iniziando ad entrare nell'idea ma vi darò il mio risponso definitivo su Cats Breaker perché all'inizio l'ho segato proprio tra un shunt perché no cioè per me quello non è Cats però allo stesso tempo mi riservo di vederlo in costume una volta che l'ho visto in costume e una volta che l'avrò visto recitare avrò un'opinione su Cats Breaker so che la gente sta impazzendo io purtroppo ho una visione di Cats molto poco cioè molto poco ortodossa al di là del fatto che per me rimarra sempre solo Silvia Murphy ma vabbè non lo possono usare troppo vecchio allo stesso tempo voglio vederlo una volta che lo vedrò in costume anche perché vi ripeto che Cats Breaker deve passare sopra il mio cadavere cioè sono io che devo dire se è Cats Breaker o no cioè se supera il mio test allora può recitare vabbè vabbè deliri di onnipotenza vado avanti con le domande mi chiedono io vorrei iscrivermi a lettere o filosofia ma ho paura di non trovare lavoro consigli? allora di nuovo discorso che ho fatto anche spesso ragazzi nessuna università vi garantisce un lavoro ok l'università non è un so come dire un luogo dove uscite da lì a meno che non andiate in alcune private con contatti particolarmente rilevanti non vi trova lavoro l'università non lo fa nessuna il lavoro ve lo trovano le vostre capacità personali che poi ci siano invece università un po' più tecniche con ambiti non so come dire più tecnico scientifici che chiaramente rispondono a un'esigenza di mercato non lo metto in dubbio però io conosco tanti ingegneri che hanno fatto molta fatica a trovare da lavorare conosco tanti avvocati che sono a spasso fanno un altro lavoro conosco farmacisti che fanno una fatica a boia a farsi dare un contratto decente o che non riescono a lavorare nella ricerca o ricercatori che veramente vengono pagati una miseria e io lo trovo disgustoso quindi allora ragazzi nessuna università vi troverà da lavorare magari qualche settore specifico e tecnico medico perché effettivamente è un numero chiusissimo ci sono pochissimi posti che rispondono a un'esigenza di mercato o comunque a ciò che il mercato può assorbire detto ciò io penso che l'università debba soprattutto sviluppare il vostro approccio critico approfondire le vostre conoscenze ma non rendervi dei lavoratori rendervi capaci di elaborare e soprattutto lettere e filosofia in generale però elaborare concetti e poi riuscire ad applicarli in altri ambiti io non ho mai avuto problemi a trovare lavoro ma anche perché mi sono sempre adattata e non ho mai avuto problemi e non ho mai fatto un lavoro legato a lettere perché lettere non significa a parte che non ho una laurea però lettere non significa consegnarti e darti un lavoro in mano come non te lo dà filosofia come non te lo dà ingegneria come non te lo dà biologia come non te lo danno tutte le altre materie che si studiano più o meno quello che però ti insegnano le materie umanistiche è sicuramente un approccio molto agile ad alcuni concetti e questo io lo trovo sempre utile io ripeto sarà che ho sempre lavorato come una povera schiava ed effettivamente ci sono andata molto vicino però per me non è mai stato un problema trovare lavoro a me non interessava trovarlo nell'ambito ecco io non ho mai cercato cose nell'ambito quindi poi dipende anche dalle aspettative personali e quanto le potete o le volete ridimensionare eccetera eccetera io mi sono sempre adattata non fate lettere pensando esco da lì e faccio questo faccio quest'altro faccio quest'altro fate lettere perché pensate che lettere vi possa arricchire vi possa dare un tipo di istruzione che è quella che voi ricercate che vi possa far approfondire conoscere alcune materie che volete approfondire ma non pensate che lettere come le altre facoltà invece vi porti su strade più difficili di altre cioè il mondo del lavoro è una merda quindi è il mondo del lavoro è difficile a prescindere quindi insomma era un po' un post incoraggiante questo nel senso che io davvero penso che la felicità delle persone e l'interesse delle persone non sia una componente secondaria se vuoi fare lettere ma poi ti scrivi ingegneria e lo odi non ti piace eccetera che senso ha poi se invece vuoi fare lettere ma magari hai grandi capacità anche in altri ambiti io non sarò quella che ti sconsiglierà di guardare altrove cosa ti porta a dare 5 stelle a un libro su Goodreads ok allora 5 stelle per me significa che il libro in qualche modo mi ha stravolta e tendenzialmente non è un dato oggettivo io non do delle recensioni oggettive perché ci sono troppe componenti nella lettura cioè se il libro mi colpisce anche se è un brutto libro io gli do 5 stelline non mi interessa poi magari gliene do 4 rispetto a 5 perché mi rendo conto che non sia degno di averne di più però questo è un altro discorso in tutto ciò comunque io devo continuarmi a truccare e direi che passo un pochino a fare la base pulisco e poi dopo vediamo cosa salta fuori soprattutto non ho occhiaie in questo periodo come vedete allora 5 stelline per me significa che un libro ha un valore intrinseco più o meno alto che sia a livello oggettivo o non a livello non oggettivo ma semplicemente personale trovo che comunque cambi poco cioè nel senso il libro ti deve colpire ed è quello che ti deve colpire poi non giudico le 5 stelle di altri non me ne frega niente per me un libro da 5 stelline è un libro che mi ha aggiunto qualcosa mi ha davvero dato qualcosa in più che non ho mai ritrovato in altre cose e quindi questo è la razio diciamo principale per cui io do 5 stelline diciamo che di solito se un libro lo trovo mediocre da altri punti di vista forse è più facile che io spieghi perché come do un po' il mio rating una stellina per me è ciò che è inqualificabile ciò che non sono riuscita nemmeno a finire o che se ho finito ne ho un'opinione che c'è proprio solo perché scritta ma è molto raro che io dia una stellina perché io comunque ne do sempre almeno due anche ai libri molto brutti perché comunque vuol dire che apprezzo il fatto che siamo arrivati alla fine una stellina ci deve essere proprio qualcosa che non dovrebbe essere nel mondo editoriale due stelline sono le cose che proprio secondo me sono brutte cioè brutte da tanti punti di vista sia scrittura sia insomma tematiche eccetera libri che tendenzialmente mi fanno un po' arrabbiare sopra le due stelline ci sono le tre le tre per me significa sia potevi fare meglio ma hai fatto male sia vedo e intravedo del potenziale oppure cose che non mi sono dispiaciute ma non mi hanno dato quel qualcosa in più quindi non mi non mi rimarranno diciamo a lungo addosso comunque io non ho mica delle occhiaie no quindi adesso provo a metterle con un altro strato con invece il pennello quattro stelline è un libro che a me è piaciuto molto ma non mi sento di dare di più perché magari è un buon libro è davvero un buon libro ma gli manca quel tocco in più ecco quel qualcosa in più che mi fa dire ok questo è veramente un libro che mi porterò dentro per tanto tempo quest'anno in realtà ho già dato diverse cinque stelline perché ho letto veramente dei libri magnifici l'anno scorso non ne ho date poche ma ne ho date diverse però le trovate tutte nella top del 2019 perché effettivamente ho letto tanti libri che a me sono rimasti dentro e questo credo che sia il valore più alto che possa darmi un libro adesso faccio una cosa che non dovrei fare perché ho la pelle secchissima ma non siamo qui per fare una lezione di make up giusto? giusto? intanto leggo un'altra domanda ho diverse domande riguardo ma perché lì è stato un errore mio e la gente mi ha presa letteralmente e sono sicuramente non sei religiosa ma ti consideri spirituale esempio credi nelle vite passate così e invece un'altra credi nella meditazione cosa pensi della religione sei wicca cioè ce ne sono molte allora io ragazzi l'ho già purtroppo esplorato molte volte questo tema e rimarrò molto molto dura purtroppo io sono atea convintissima e oltre che atea sono anche anche antireligiosa nonostante questo io rispetto moltissimo il credo delle altre persone perché credo che ognuno si rivolga alla religione o recepisca la religione per motivi anche diversi e nonostante io non so la trovi soprattutto consolatoria io penso alla religione come qualcosa di consolatoria e non sono una persona spirituale sono una persona molto pratica perché non riesco proprio come istinto personale ad affidarmi a qualcos'altro a pensare a qualcos'altro a recepire in situazioni esterne qualcosa di boh di divino di più grande di non lo so ma la religione è un discorso talmente personale che la mia visione è una visione soprattutto antireligiosa anticlericale e anticattolica e qualsiasi cosa però chiaramente io né giudico né considero una persona di minor valore se è religiosa assolutamente no capisco perché le persone siano religiose io non lo sono e ho fatto tutto ciò che dovevo fare per togliermi insomma dai sacramenti che invece sono stata obbligata a fare da soprattutto mia nonna ma non sono io una persona spirituale purtroppo non sono cose in cui né credo né soprattutto ricerco non lo so è strano il mio rapporto con la religione riguarda la meditazione io non medito ci ho provato numerose volte il mio problema è che la mia testa frulla continuamente non ce la faccio a liberarla so che sarebbe molto utile so che sarebbe la cosa forse migliore io non ce la faccio raga sono troppo stupida o troppo cioè nel momento in cui mi fermo per me iniziano i disastri il mio problema è fermarmi a pensare e già è una fatica a farlo senza far esplodere la mia testa la meditazione non mi aiuta ci ho provato numerose volte e non ce la faccio mi hanno chiesto anche se ho mai approfondito il buddismo da un punto di vista diciamo teorico superficiale sì ma purtroppo non credo in nulla raga io credo nelle persone ed è già difficile credere nelle persone e nei valori che dobbiamo cercare di esprimere come persone mi chiedono com'è Ravenna so che sei di Bolo però io sono di Torino e l'Unidi si trova là quella che vorrei fare allora io Ravenna la conosco pochissimo in maniera molto superficiale è una bellissima città ho tanti amici di Ravenna magari ti mando qualche contatto se vuoi chiedere informazioni ma non ti posso aiutare più di tanto perché la conosco veramente solo per le serate i locali e non so perché ci ho fatto diverse gitte nella mia vita molto bella molto molto carina una città molto tranquilla però questo è dove finisce la mia conoscenza sull'università sono molto poco allora mi chiedono come ti sei avvicinata alla musica dei gruppi Riot Girls quali sono i tuoi gruppi prefea allora diciamo che io non sono legatissima alle Riot Girls e alle band Riot Girls diciamo che ci sono arrivata in quanto sono una mega fan del punk e una mega fan della musica rock in generale però ci sono gruppi che io amo moltissimo a partire dalle Bikini Kill perché insomma Kathleen Anna è uno dei miei modelli esistenti di vita cioè io la amo fin da quando sono piccola e passando poi ad altri gruppi come possono essere state le Hall le Hell 7 le Slither Kinney le Bratz Mobile e poi andando anche nelle fasi successive a ovviamente le Tigre i Julie Rowan che sono i gruppi successivi di ovviamente Kathleen Anna mi vengono in mente i Babes in Toiland Chicks on Speed e tutti questi gruppi diciamo che in quanto appassionata di genere comunque un po' legato al va con culo tutto e musica abbastanza violenta mi sono avvicinata anche questo e soprattutto in adolescenza anche trovare gruppi che parlano di alcune tematiche che a un certo punto inizia ad elaborare soprattutto in quell'età per me è stato rilevante tutto ciò io mi devo truccare in sto video continuo a fare altro vabbè invece altre domande vabbè Elena che mi chiede se ho mai letto Sanderson perché praticamente io ogni volta che faccio Q&A la gente mi chiede se ho letto Sanderson e cosa ne penso voi non guardate i miei fantasy talks e non mi seguite da abbastanza tempo perché allora io non ho nulla contro Sanderson non è un autore che mi interessa mi ispira perché scrive epic fantasy a me l'epic fantasy non interessa è uno scrittore che io sono certa sia bravissimo fantasmagorico bla bla lo leggerò quando e se ne avrò voglia per ora giuro che non è una constatazione su di lui è semplicemente che a me non interessa abbiamo un'altra puntata della posta del cuore perché mi chiedono odio la famiglia del mio amoroso e lo trattero un po' di merda che fare arg arg mi viene da dire è veramente complessa questa situazione allora innanzitutto vabbè io inizio a fare cose a caso giusto per per dare un tono e darmi un tono in questo video perché devo farli è complessa sta situazione non vorrei essere nei tuoi panni il problema è che soprattutto al di là del fatto che può esserci una antipatia di un certo tipo io non so che tipo di rapporti avete cioè ti direi in primis cerca di vederli il meno possibile per quanto possibile perché insomma campascusa e fai cose per non vederli allo stesso tempo il problema è che trattano male il tuo amoroso e quello non va bene quello è veramente la cosa peggiore di tutta sta situazione e quello bisogna che ne discutiate cioè bisogna che a un certo punto non devi passare da una che insomma allontana il tuo compagno dalla famiglia né che lo stai plagiando né niente però mettilo di fronte a un certo tipo di realtà insomma ma anche perché è giusto che lui abbia un rapporto sano con i propri genitori che non lo trattino come un povero demente anche perché penso che non lo sia che brutta situazione mamma mia ok diciamo che la base forse c'è mi scoccia perché il giallo si vede un terzo del rosso questo rosso è veramente power però mi chiedono se ho mai provato attrazione per una donna allora ci ho pensato diverse volte perché me lo sono chiesta perché penso che tutti a un certo punto si chiedono insomma se magari non lo so no la risposta è no nel senso che io provo una fascinazione molto molto grande per alcune donne ma non perché ne provo attrazione ma semplicemente perché penso io vorrei essere come lei e questo senso di ammirazione per me è veramente viscerale cioè io ho veramente persone ho conosciuto donne e ho avuto modelli di donne che veramente vorrei essere loro vorrei avere la loro capacità vorrei avere la loro bravura vorrei avere magari le loro vite in alcune cose magari no però semplicemente le ammiro e ammiro alcune caratteristiche ma le ammiro in maniera veramente profonda e viscerale anche se più di una volta me lo sono chiesta perché magari non lo so sono cose che ti chiedi non è mai stato oltre non è mai stato attrazione proprio profonda e sarò super etero basic però rimane un'attrazione quasi più da immedesimazione cioè vorrei veramente essere queste persone perché le ammiro molto lo so sono noiosa raga domanda pesa qua cambiamo tono ti capita di avere attacchi di ansia ingiustificati o apparentemente ingiustificati come li gestisci praticamente allora una cosa che ho imparato è che gli attacchi d'ansia molto difficilmente sono ingiustificati c'è sempre qualcosa sotto c'è sempre qualcosa che te lo scatena anche quando non te ne stai rendendo conto anzi probabilmente proprio perché non te ne stai rendendo conto io mi ricordo che proprio quando ebbi un mega campanello d'allarme successe io lavoravo come commessa in un centro commerciale e sotto Natale facevamo 8 milioni di ore di lavoro intanto vado a fingere di dovermi truccare in questo video dando un disastro e io mi ricordo che ebbi un attacco di panico clamoroso un attacco d'ansia clamoroso ogni volta che varcavo la soglia vabbè era anche il periodo dove stavo veramente male però lì mi sono resa conto che non stavo elaborando il fatto che andare al lavoro in quel periodo con quegli orari con quei ritmi con tutte quelle persone mi stava facendo flippare il cervello e io non l'avevo elaborato anche perché avevo appena iniziato a capire che mi stavano succedendo cose lo do col dito perché sono una disgraziata potrei darlo con un pennello ma a me non interessa quindi da lì poi insomma vabbè poi ho iniziato a elaborare a fare terapia soprattutto perché soffro spesso di attacchi d'ansia ora li ho limitati moltissimo perché riesco a riconoscere e a mettere in fila le cose che mi rendono ansiosa ciò non mi rende immune perché nulla ti rende immune per sempre cioè semplicemente devi imparare a gestire ma non sempre lo riesci a fare tutto il tempo quindi nulla è ingiustificato c'è sempre qualcosa sotto almeno quasi sempre a volte anche il nostro corpo risponde con un attacco d'ansia a degli stress in cui non abbiamo elaborato o magari di cioè l'attacco d'ansia l'attacco di panico sono delle risposte fisiche a ciò che succede nella nostra testa anche quelle che soprattutto non stiamo capendo e quindi credimi quando ti dico che c'è qualcosa sotto c'è sempre qualcosa sotto prova a capirle perché a me ad esempio riuscire sempre a decodificare perché sono in ansia mi aiuta a gestire mi aiuta a capire cosa posso fare a volte anche io ho voglia di abbandonarmi a quest'ansia perché sono stanca altre volte invece perché mi è stato insegnato a farlo l'attacco d'ansia l'ansia che ti opprime che ti fa stare veramente male quando la elabori riesci anche ad attuare dei meccanismi per uscire da certe situazioni parlare di certe situazioni e questo ti rilassa almeno me fa così poi è ovvio che ogni situazione peculiare è una situazione diversa per ognuno di noi però fidati di zia invece mi chiedono zero problemi d'amore ma non riesco a troncare le amicizie tossiche perché? proprio perché sono amicizie tossiche il problema è che molto spesso ci rendono anche un po' dipendenti perché sappiamo che sono cose che non ci fanno stare bene e ci fanno anzi tendenzialmente stare parecchio male ma cosa c'è di più bello che soffrire da un lato dall'altro perché abbiamo una paura fottuta e spesso succede di rimanere da soli di non essere capiti di non trovare persone che ci stimino abbastanza quindi sono tutte paure che in realtà comprensibili dal lato sappiamo di stare vivendo un po' come in una relazione abusiva il parallelo è più o meno lo stesso sappiamo di stare vivendo una situazione che non ci fa stare bene che in realtà ci sminuisce e che non ci rende felice però ci sono cioè quel rapporto è morboso è malato proprio perché alla fine abbiamo paura ed è una paura più che razionale di rimanere da soli di rimanere incompresi e anzi di venire percepiti come la causa del problema o altre questioni insomma ti capisco molto bene perché spesso uscire da certi vincoli di amicizia che non ci fanno bene è molto complesso e ci siamo passati tutti direi più o meno tutti poi c'è chi è molto fortunato ha sempre avuto amici meravigliosi e anzi circondatevi di persone che non vi fanno sentire di merda non vi sminuiscono e che tra i due cercano di sollevarsi a vicenda come insomma è giusto che sia un'amicizia domanda sempre che zia Tiffany è già quel ditino puntato a volte mi sembra che lui mi ferisca apposta perché sa che può farlo come mi comporto se sono troppo debole per farmi valere allora innanzitutto è chiaro che se lui si comporta così con te è perché pensa che sia giusto e lo possa fare solo perché magari tu non ti senti abbastanza sicura o non hai la forza per controbattere questo non è una giustificazione però perché significa che sfrutta questa sua posizione di potere nei tuoi confronti e questo è un problema grosso quindi le strade sono due o scappi a gambe elevate perché vuol dire che non è una situazione dove tu potrai mai avere spazio anche di controbattere o si creeranno questi rancori sempre più profondi e che ti renderanno sempre più infolice dove ti sentirei sempre più inadeguata eccetera eccetera l'alternativa è cominciare a parlarne parlarne in una maniera molto chiara e appena vedi che queste cose accadono iniziare a farglielo notare iniziare proprio a mettere l'evidenza su questa cosa che sta facendo io non penso che sia impossibile cambiare magari può succedere allo stesso tempo se non c'è la volontà di cambiare rimango dell'idea che bisogna scappare a gambe elevate fai un tentativo parlatene perché solo parlandone e cercando di chiarire anche con degli esempi pratici cioè quando accade come si possa cambiare rimango dell'idea che sia molto complesso perché ci deve essere una grande volontà anche perché se di solito si imposta una relazione in questo modo significa che da un lato uno dei due ha più potere quindi uno dei due da un lato guadagna qualcosa da questo modo di fare e non sei tu quindi insomma io ti direi di parlarne provare a parlarne ma allo stesso tempo valutare se parlandone cambierà qualcosa allora mi chiedono una domanda legata a Instagram cioè secondo te ha senso aprire profili che parlano di libri quando l'Instagram ne è satura? c'è possibilità che se i contenuti valgono un profilo nuovo al giorno d'oggi spicchi allora secondo me niente è saturo di nulla perché non dovete mettervi su Instagram per diventare famosi diventare grossi diventare riconosciuti partite dai presupposti sbagliati secondo me perché semplicemente non si sta su Instagram parlando di libri per diventare famosi è proprio sbagliato il concetto di base nel senso che se si ha costanza se si fa un buon lavoro ma soprattutto se si hanno dei contatti se si è propositivi i contenuti non contano nulla sui social si possono fare dei bellissimi contenuti ma parlare solo a se stessi e questo non aiuta non serve a nulla perché se voi vi aprite un canale un account e non comunicate con l'esterno ma fate le cose bellissime non serve non vi renderà grossi non vi renderà riconoscibili allo stesso tempo il social è un social proprio perché si fonda sulle relazioni interpersonali quindi il mio consiglio è lavorare bene con costanza fare contenuti qualitativamente riconoscibili perché lo sono dal punto di vista qualitativo che non significa la foto migliore di tutti i tempi altrimenti io sarei famosissima no scherzo sto facendo l'asina significa un contenuto di qualità alta che questo purtroppo conta e conterà sempre da un lato anche per fortuna dall'altro lato dovete trovare la vostra voce il vostro modo di comunicare cioè chi siete come vi raccontate cosa raccontate sui social e dovete essere personali secondo me in quello che fate questo sarà il vostro valore aggiunto allo stesso tempo coltivate le relazioni perché quello il social non è diventare famosi non ci interessa diventare famosi il social deve essere un modo per intessere relazioni quello è il motivo vero per cui le persone seguono altre persone in massa non è perché sono i più bravi ma perché sono quelli che si comunicano meglio e io non penso che instagram sia saturo né youtube sia saturo leggerò crescent city della massa allora si in realtà pensavo di leggerlo in quarantena però avevo letto in anteprima i cinque capitoli e mi hanno fatto passare qualsiasi voglia di leggerlo diciamo che lo leggerò ma con grande calma anche perché ha un tumone di novecento milioni di pagine sinceramente ne ho voglia cioè tra l'altro non è piaciuto a nessuno o solo agli americani vabbè ma gli americani sapete che è un'opinione un po' insomma non li trovo così precisi nelle loro cioè quasi tutti li trovo molto distanti dal tipo di critica che piace a me non so carta ebook voglio convertirmi all'ebook ma non ci riesco amo la carta boh io leggo 50 e 50 amo l'ebook come amo libri normali li associo a dei momenti diversi della giornata non sono legata tantissimo alla carta cioè mi piace avere i libri che amo in carta però molto lo leggo in ebook per comodità anche perché è una questione di spazi cioè dopo un po' lo spazio fisico finisce lo spazio sull'e-reader no una domanda interessante invece da femminista intersezionale come ti rapporti all'antispecismo ecco allora sono concetti secondo me diversi so che soprattutto per la comunità vegan non lo sono e io rispetto tantissimo il parere di chi la pensa così io personalmente non sono antispecista ognuno ha la propria sensibilità il proprio modo di vedere le cose io personalmente la vivo così una domanda interessante anche è mai capitato di sentirti in ritardo rispetto ai tuoi sogni o troppo grandi per la strada da voler prendere allora è un problema che io ho vissuto soprattutto come crisi attorno ai miei 25 adesso sono proprio in un altro tipo di mentalità che proprio sono oltre però diciamo che quando io ho iniziato a fotografare da persona anche legata al mondo dell'arte diciamo che quando ho iniziato a fotografare fino ai miei 20 anni ecco diciamo che ho avuto un'esplosione sia dal punto di vista creativo sia dal fatto che avevo fatto tante cose ho fatto un sacco di mostre ho fatto un sacco di di ricerca ho fatto mille collaborazioni diciamo che era un momento molto florido allo stesso tempo era anche il momento in cui io avevo meno mezzi possibile per perseguire il mio sogno e quindi mi sentivo proprio intrappolata in questa situazione che era folle cioè era un momento di massima curva in positivo allo stesso tempo era quello dove io sentivo ancora più forte la mia condizione perché io per comprarmi la macchina fotografica cosa non ho fatto per poi passare ai livelli successivi significava non avere solo la propria macchina fotografica a livello diciamo professionale poi io ho sempre visto tutte le cose in una maniera molto pratica quindi non ho mai pensato di fare fotografia artistica ma di fare fotografia professionale e insomma seguire una certa strada seguire certi servizi e per lavorare in un certo ambito chiaramente ti serve un tot di attrezzatura che io ai tempi facevo fatica per mettermi e a montare anche un portfolio verso quel lato lì una volta che poi dopo ho superato questa crisi dopo i miei 20 anni invece ho iniziato tutta la cosa voglio fare da grande che per me non significava fare fotografia perché per me era impossibile fisicamente per seguire la fotografia come carriera perché nella mia testa era così e probabilmente per quello che avevo in testa all'epoca era complesso e non dico che non avessi ragione ma in realtà l'avevo in tutto ciò io devo finire di truccarmi il tema è diventato che da lì in avanti non si trattava più solo di quello è iniziata ad esserci l'università a pensare cosa volevo fare da grande e se la fotografia era rimasta un sogno io ero molto convinta in parallelo di fare la giornalista infatti vedete che ora faccio sia la giornalista che lavora in grandi magazine quindi insomma io ho ridimensionato parecchie volte i miei sogni ma allo stesso tempo non li ho solo ridimensionati li ho trasformati e li ho modificati e non so neanche dirvi se effettivamente ora io vorrei fare quello che avevo in testa all'epoca cioè la fotografia è sempre stato il mio sogno però è anche una delle cose che mi mette più ansia e in realtà io poi la fotografa la faccio perché ho il mio studio che non so dieci anni fa mi sembrava la cosa più impensabile della storia e ora invece ce l'ho è anche una figata perché siamo in un collettivo in un gruppo di amici e ragazzi la cosa forse cioè non so dall'esterno può parere una cosa molto piccola ma dal punto di vista psicologico dal punto di vista creativo eccetera è una delle cose più belle che mi siano mai capitate è veramente bello lavorare con i tuoi amici ed è molto stimolante lavorare con persone che invece che tirarti giù trovano idee cercano di portare qualcosa in più di far funzionare le cose di sostenerti è una figata e quindi insomma allo stesso tempo però io ho cambiato molto adesso lavoro in pubblicità che era impensabile all'epoca non sapevo neanche di essere capace quindi mi sono adattata molto e allo stesso tempo però iniziavo a sentire come se non so il clock iniziasse a dirmi ehi però puoi arrivare a più di 25 anni e non avere un'idea in testa in realtà ora sento come se fondamentalmente io non farò questo per tutta la vita ne sono consapevole e convinta perché siamo in un mondo dove l'unica costante è il cambiamento e l'adattamento ne sono convintissima di questa cosa quindi boh cioè non lo so penso che ormai il ritardo non esista più perché uno si può rinventare sempre perché uno può trovare sempre delle altre cose che lo appassionano ed è giusto ed è la cosa forse più stimolante più bella di un lavoro creativo quanto meno ma io parlo per me quindi non parlo degli altri lavori perché io sono una persona creativa e per me lo stimolo è importantissimo non lo so quindi il ritardo per me non esiste più cioè da un lato una volta avevo l'ansia di essere il prodigio dopo è diventata sono troppo in ritardo per essere tipo ancora il prodigio dopo è passata oddio sono completamente fuori da qualsiasi ragionamento perché sono troppo vecchia per fare qualsiasi cosa decentemente in realtà cioè se ci penso adesso ho un ruolo che comunque mi soddisfa molto mi piace molto il mio lavoro mi piace molto e ho raggiunto dei traguari che mai avrei pensato dieci anni fa e sono molto soddisfatta ma poi magari non è la cosa che farò per tutta la vita magari fra dieci anni diventerò troppo vecchia e sarò stanca di fare questo e mi voglio buttare su altro e va bene ci sta c'è niente di male allora prima di rispondere a qualsiasi domanda faccio l'eyeliner perché ho in testa di fare una cosa che poi non farò perché mi cagherò addosso però ci provo ok mi sono accorta anche di un'altra cosa essendo grifondoro molto oro come dice anche la parola mi manca un po' di oro ok per ultimo mettiamo i glitter a caso non so neanche se li riesco a mettere ok allora invece altre domande riguardano il matrimonio come mai e secondo me il fatto di essermi sposata così giovane questa cosa mi ha un po' sorpresa abbia cambiato il mio modo di vedere le cose e insomma come vedo il matrimonio varie ed eventuali allora io a parte che già mi sono sposata due anni fa cioè giovane sì ma sembra che mi sia sposata a 18 anni e non è assolutamente così e noi ci siamo sposati perché per una serie di motivi che vabbè un po' anche personali però insomma io stavo con Mr. Fiction già da 8 anni infatti quest'anno io e Mr. Fiction facciamo 10 anni in corrispondenza più o meno del nostro anniversario di matrimonio noi non abbiamo anniversari siamo due storditi non ci siamo mai detti ok ora stiamo insieme ovviamente ho iniziato a uscire molto a caso e praticamente insomma a me non è cambiato molto il matrimonio cioè nel senso che io in realtà non ho mai pensato mi sarei sposata però è vero anche che io sono a contatto col matrimonio moltissimo cioè mi occupo di fotografia di matrimoni e io credo molto nel matrimonio in generale penso che se due persone si vogliono bene possono stare insieme nelle forme che più gli aggrada e che più gli rispecchi non so stando anche da tanti anni insieme con mio marito non lo so lo trovavo quasi naturale soprattutto anche per inclinazioni insomma nostre poi io volevo fare una festa gigante e così è stato non so io non trovo che la mia percezione sia cambiata e né che mi sia sposata così giovane poi c'è secondo me non c'è un'età giusta nella quale sposarsi non è come studio lavoriamo con coppie che hanno quasi dieci anni meno di me magari dieci no ma sei sette sì ma coppie anche che hanno 30 35 anni più di me ed è bello vedere come secondo me le persone non abbiano un unico momento giusto nel quale pensano che sposarsi sia giusto io lo trovo molto carino molto dolce è una cosa non so molto romantica io sono nascostamente un po' romantica per queste cose c'è la cosa bella dei matrimoni che ogni storia è una storia a sé e nessuna storia è uguale e soprattutto perché non tutte le persone vedono le stesse cose credono nelle stesse cose e sperano nelle stesse cose e lo so io trovo un concetto molto bello e ogni persona ha molto di sé all'interno del matrimonio per noi è stato molto naturale anche se ripeto che io non sono mai vista con una persona che si sarebbe sposata poi ho rivisto un po' tutto insomma conoscendo e stando con mio marito e adesso mettiamo i glitter non è glitter gialli quindi mettiamo dei glitter che sono un po' a caso ok questi hanno il riflesso verde ma noi faremo finta che il riflesso vada bene e ok e anche oggi siamo diventati capitani glitterini ok metto il rossetto poi ci siamo e siamo arrivati in fondo a questa lunga registrazione di Q&A che penso sia durata tutta la vita ok ce l'abbiamo fatta insomma fatemi sapere cosa ne pensate e ora direi che mettiamo gli occhiali perché sennò qua non si vede niente niente io sono arrivata in fondo spero che insomma questo video abbia risposto a tante domande me ne avete fatti veramente tante quindi troppo devo fare un po' una cernita e niente spero che il video vi sia piaciuto che il risultato insomma in qualche modo abbia avuto senso per le due casate così abbiamo concluso anche oggi gli occhi a tema casate di Harry Potter ho messo il rosso così insomma mi sembra che stesse bene con tutte e due ovviamente quindi era la cosa più semplice e ho messo il Fire Kiss di Cleo e direi che insomma per oggi potrebbe essere tutto se avete altre domande segnatevele che presto ci sarà ovviamente un altro Q&A presto ci sarà un altro Q&A e direi che per oggi è tutto spero di avervi tenuto compagnia e per tutto il resto ci vediamo al prossimo video ciao